Amici di LiguriaWeb.it, amici di LiguriaWeb Sport, siamo questa volta in questa puntata a presentarvi un atleta straordinario, intanto è già un personaggio straordinario di per se stesso Enrico Gazzola e non lo dico perché tante volte può sopravenire questa forma di pietismo perché è un atleta diversamente abile in carrozzina, no perché Enrico è davvero una forza della natura. Enrico Gazzola, campione italiano di danza sportiva nel 2014 assieme a Giordano di Tivoli che fu prima ballerina nelle edizioni anni 80 di Fantastico. Esatto. Ho detto bene Enrico? Esatto. Senti quanto ha contato innanzitutto, te lo dico così a brucia pelo, la bravissima e ancora bellissima Giordano nella tua formazione artistica? Assolutamente ha contato moltissimo perché è lei che mi ha portato la danza, mi ha formato come atleta e mi ha portato fino al titolo italiano che abbiamo vinto insieme, che è stata un'assoluta sorpresa perché è stata una scommessa, noi ci abbiamo provato perché volevamo fare questa esperienza. In quel di Roma, è vero? No, abbiamo vinto a Rimini ai campionetti italiani di danza paralimpica appunto nel luglio del 2014, è stata una sorpresa perché noi siamo andati per fare esperienza, mai più pensavamo di tornare a casa con loro. Neanche outsider, andiamo là e vediamo cosa succede. No, siamo andati per fare esperienza, per provare questa emozione e improvvisamente abbiamo anche vinto. Royotti aveva già visto esibire in altre circostanze? Sì, sì, sono sei anni. In Vivi lo Sport in piazza dal Benga, così avevo visto di cosa eri capace. Come è venuto Enrico, questo zic, questa idea luminosa di darsi alla danza? Ma è stata una cosa, come tutte le cose, le cose più lontane, più impensate, poi diventano le più vicine. Io dopo un'esperienza purtroppo negativa con l'ipoterapia e con il dressage paralimpico che ha avuto un incidente. Non andavi d'accordo con i cavalli? No, veramente era lui che non andava d'accordo con me, però ha avuto questo incidente nel 2007, poi ho conosciuto Giordana appunto in quel frangente e nel 2009 ho cominciato l'avventura della danza quasi per scommessa. Senti, questa avventura della danza ti ha portato, tu che rappresenti anche la tua società, vogliamo ricordarlo, quando il tuo distintivo è la Sul Dance di Albenga, sei atleta, fit, federazione italiana danza sportiva, campione italiano 2014, questa esperienza però ha dato come conseguenza altre esperienze importanti. Assolutamente. Levitini Letta, Lorella Blondo, tutti i nomi ed episodi che hanno costellato la vita, la tua vita ad atleta, regalati queste belle soddisfazioni, ma anche esperienze informative. Assolutamente sì, dopo l'esperienza bellissima con Giordana, che purtroppo a gennaio 2014, per motivi di lavoro, ha dovuto trasferirsi a Roma, è arrivata la collaborazione. Codiamo l'occasione per salutare. Assolutamente, assolutamente grande donna e devo dire che poi è arrivata la collaborazione con la signora Lorella Brondo, che è direttrice della scuola civica attimo danza di Loano, ex etual di danza classica a livello internazionale e insieme a lei è arrivata la collaborazione col coreografo Ido Pampuro, che sta dando veramente dei grandi frutti e intanto ha portato la medaglia d'argento ai campionetti italiani 2015, sempre nello show dance combi, che è ballerino o ballerina in carrozzina e ballerino o ballerino normodotato. Quindi oltretutto c'è anche questa unione dello sport dei normodotati con lo sport paralimpico e appunto la danza è una di quelle specialità che permette questa simbiosi. Simbiosi, esatto. È una simbiosi vincente, perché poi i successi non appagano, rendono ancora più attivo l'appetito. La fame aumenta. Ecco, la fame aumenta, sono come le ciliegie. Sì, una tira l'altra. Adesso nell'immediato, nell'immediato prossimo futuro, cosa attende Enrico Gazzola? Nell'immediato prossimo futuro ci sono degli impegni importanti, come per esempio sabato sarò ospite vicino a Vicenza a un convegno nazionale dei giornalisti che dovrà andare a fare un'esibizione dove si parlerà di disabilità a vario titolo. Sono stato invitato dalla giornalista di Famiglia Cristiana Online, Romina Gobbo. Bene. E agonisticamente cosa aspetta Enrico Gazzola, sempre nell'immediato prossimo futuro? Agonisticamente mi aspetta. Innanzitutto la prima cosa è domenica prossima, 7 febbraio, un'esibizione al Teatro Modena di San Pierdalena, ospite della Scuola Civica Attimo Danza di Loano, insieme all'Orella Brondo, mia straordinaria partner che mi ha fatto crescere ulteriormente, insieme al lavoro di Edo Pampuro. Difatti stiamo lavorando per portare avanti tutte le coreografie del 2016, ci saranno delle belle sorprese. È previsto la partecipazione ai campionati regionali che si svolgeranno il primo di maggio al Palasporte di Quigliano, quindi ce l'abbiamo vicini e speriamo che ci possano venire a vedere numerosi. Sono i campionati regionali sia di danza normale che di danza paralimpica. Bene, direi che è un futuro affollatissimo, noi vogliamo. Ci sono i campionati italiani il 10 di luglio a Rimini. Ti aspetto qua con la medaglia d'oro del primo posto a Rimini. Sarà molto difficile perché ogni anno diventa sempre più complicato perché comunque aumentano gli atleti. E aumentano gli atleti capaci. Quindi è difficile trovare la performance. Esatto. Diciamo che c'è anche un'altra bella cosa che quest'anno è previsto una sorpresa, diciamo così, perché nella società c'è un'altra ragazza in carrozzina che si chiama Chiara Bruzzese e stiamo preparando e debutterà ai campionati regionali un duo di carrozzina. Io e lei solo due carrozzine in duo che è prevista anche questa specialità nel settore danza paralimpica e questa secondo me sia per i regionali sia poi ci sarà l'esperienza degli italiani. Secondo me questa è veramente la più grande vittoria, dare la possibilità a un'altra persona in carrozzina di esprimersi e di dare il proprio contributo e sentire, cioè vivere questa emozione dello sport. Enrico Cazzola, campione italiano di danza sportiva, atleta paralimpico, grande personaggio e grande atleta. Grazie di essere stato con noi. Io ringrazio assolutamente te e ringrazio Liguria Web per avermi dato questa grande possibilità. Grazie davvero. Alla prossima perché finisce qua il nostro rapporto. Ci rivediamo alla prossima puntata.